Dio è sempre presente a suscitare uomini nuovi, a purificare il mondo dal peccato che lo invecchia e lo corrompe. All'Angelus della seconda domenica dopo Natale, Papa Francesco ricorda che per quanto la storia umana e quella personale di ciascuno possa essere segnata dalle difficoltà e dalle debolezze, la fede nell'incarnazione ci dice che Dio è solidale con l'uomo e con la sua storia. La luce dell'amore di Dio, diventato pienamente Dio con noi, è una stella che riluce anche oggi, è un dono che non tramonta mai. Ed è proprio questa la sorgente dell'entusiasmo e della speranza dei cristiani. Pur nella nostra povertà sappiamo di essere amati, di essere visitati, accompagnati da Dio. Ieri come oggi ha concluso il Pontefice, l'uomo tante volte preferisce rimanere nella chiusura dei propri errori e nell'angoscia dei propri peccati, ma Gesù non desiste e non smette di offrire se stesso e la sua grazia che ci salva.